Questa sera su Rai 1, la prima puntata della fiction, La Vita Promessa. Su Rai 2, Hawaii Five-O, con Alex Lothlin e Scott Kahn. Su Rai 3, Siegfriedo Ranucci conduce Report. Su Rai 4, il film horror, The Apparition. Su Rai 5, Sharada propone il documentario, Hemingway, la pagina bianca. Fate la vostra scelta. Buona visione con le prime serate Rai.